Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza l'atto di indirizzo che chiede all'esecutivo di Palazzo Donini di intervenire per eliminare le emissioni od origine dell'impianto di smaltimento in località Calzolaro di Umbertide. Adottare tutte le misure necessarie per eliminare le emissioni od origine provenienti dal trattamento dei rifiuti effettuato dalla società Splendorini Molini EcoPartner in località Calzolaro di Umbertide. Disporre attraverso l'Agenzia per l'Ambiente l'installazione permanente nell'area di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria. Queste sono le misure che l'Assemblea Legislativa chiede alla Giunta di attuare dando seguito alla mozione firmata dai consiglieri Solinas, MDP, Casciari e Guasticchi, Partito Democratico, Mancini e Lega Nord approvata a maggioranza dall'Aula. In apertura di seduta i rappresentanti del comitato degli abitanti di Calzolaro hanno consegnato a tutti i consiglieri regionali una rosa rossa con un biglietto personalizzato. Subito dopo Attilio Solinas ha illustrato i contenuti dell'atto e contestualizzato la vicenda rimarcando le criticità della situazione vissuta dai residenti della zona, dalle attività ricettive, turistiche ed economiche e parlando di una scelta che non può essere considerata solo tecnica dato che essa riguarda la politica, chiamata ad affrontare emergenze vere. Una cabina di regia unica per individuare le migliori azioni possibili rispetto all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Riunione congiunta a Palazzo Cesaroni per i membri della seconda e della terza commissione consigliare presente l'assessore Barberini e i tecnici degli assessorati sanità e agricoltura. Sull'impiego dei prodotti fitosanitari la regione sta mettendo a punto una cabina di regia unica per valutare meglio l'efficacia delle azioni coinvolgendo l'Istituto Zoo Profilattico, l'ARPA e le due ASL territoriali. Una cabina di regia che dia indirizzi univoci e permetta di approfondire al meglio la questione per individuare le migliori azioni possibili a garanzia delle persone. L'ha detto l'assessore regionale Luca Barberini nel corso di una riunione congiunta della seconda terza commissione presiedute rispettivamente da Erosbrega e Attilio Solinas e alla quale hanno preso parte dirigenti degli assessorati dell'agricoltura e della salute. Riunione che ha fatto seguito a una precedente audizione dello scorso luglio di alcuni esponenti di associazioni ambientaliste circa il regolamento Pan Agrofarmaci concernente l'impiego dei pesticidi in agricoltura e che nel frattempo hanno fatto pervenire ai consiglieri di Palazzo Cesaroni un documento condiviso contenente alcune loro richieste di modifica delle linee guida rispetto all'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Nel corso della riunione è stata rimarcata l'importanza da parte dei rappresentanti degli assessorati di mettere a fuoco eventuali situazioni di rischi reali e che anche su questa tematica si sta provvedendo al potenziamento della direzione salute della regione per essere più efficaci e più rispondenti ai bisogni delle persone e sulla questione il presidente Solinas a margine dell'audizione ha sottolineato la necessità di ulteriori approfondimenti per salvaguardare con tutti i mezzi possibili le persone da inquinanti ambientali. Sull'argomento è stata anche avanzata dallo stesso presidente la possibilità di dare vita a un documento di risoluzione da presentare in aula. Approvata in prima commissione la programmazione in materia di sicurezza urbana presentata dalla giunta regionale. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria presieduta da Andrea Smacchi ha approvato all'unanimità l'atto di programmazione 2017-2018 in materia di sicurezza urbana proposto dall'esecutivo regionale. Per il 2017 è previsto uno stanziamento di 175.000 euro di cui 35.000 andranno al patto Perugia Sicura e 25.000 a Terni Sicura. I restanti 115.000 euro finanzieranno i progetti presentati dai comuni sulla sicurezza urbana. Lo scorso anno i progetti si sono concentrati sulla videosorveglianza delle zone industriali. Quest'anno oltre a proseguire su questa strada è prevista anche la possibilità di finanziare progetti per le barriere anti-intrusione come ad esempio i pilomat, soprattutto per tutelare le nostre città durante le manifestazioni che prevedono la partecipazione di molte persone. Una esigenza questa è emersa anche dalle prefetture. L'obiettivo è quello di conciliare l'estetica dei nostri centri storici con la sicurezza dei cittadini. Il contributo regionale copre il 70% dell'intervento mentre i comuni si faranno carico del restante 30%. I progetti possono arrivare ad un massimo di 50.000 euro. La maggior parte dei progetti di videosorveglianza presentati vanno ad integrare postazioni che già esistono. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Maurizio Dalmaso, è stato ascoltato dai membri della terza commissione consigliare in merito a problematiche riferentesi alla struttura di oncoematologia dell'ospedale Ternano, segnalate dal consigliere Marco Squarta del gruppo Fratelli d'Italia che ha richiesto l'audizione con il direttore. La proposta di spostamento dell'attuale sede di oncoematologia dell'ospedale di Terni formulata nel 2015 non è più attuabile in quanto gli spazi precedentemente identificati sono attualmente occupati dall'area di degenza da 24 posti letto che potenziano la medicina d'urgenza al fine di ridurre la criticità dei pazienti ricoverati dal pronto soccorso e appoggiati nei corridoi, anche alla luce di un numero di accessi che supera i 40.000, una media di 112 al giorno con punte di 140, detto il direttore generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Maurizio Dalmaso, nell'audizione convocata dalla Commissione Sanità e Servizi Sociali dell'Assemblea Legislativa su richiesta del capogruppo dei Fratelli d'Italia, Marco Squarta, il quale ha chiesto notizie sul progetto di trasferimento del reparto di oncoematologia all'interno dell'ospedale di Terni e dopo aver raccolto testimonianze di pazienti che riferiscono di un notevole affollamento nei locali e della necessità di posti letto in un reparto, ha sottolineato Squarta, dove le pratiche mediche possono essere invasive e necessitano di ambulatori terapeutici specifici e di cubature adeguate, mentre mi risulta, detto il consigliere di Fratelli d'Italia, che in spazi dove possono essere accolti tre pazienti se ne possono trovare sei. Squarta ha quindi chiesto una verifica per conoscere il numero delle prestazioni ambulatoriali, che dai dati in suo possesso sarebbe elevatissimo, oltre 30.000, e per sapere se i locali sono a norma dal punto di vista igienico-sanitario e delle attrezzature necessarie. Il direttore Dalmaso ha risposto che invierà i dati richiesti anche ai membri della Commissione, presieduta da Tilio Solinas, con una relazione che segue gli esiti dell'incontro tenutosi nel nosocomio Ternano, a cui hanno preso parte anche il direttore sanitario Sandro Fratini e il direttore della struttura complessa di oncoematologia Anna Marina Liberati. E nella riunione della Commissione Sanità e Servizi Sociali, presieduta da Tilio Solinas, è stato dato l'avvio all'istruttoria sulla mozione presentata da Carla Casciari e dallo stesso Solinas, riguardante la possibilità di istituire due fondazioni di comunità afferenti alle due aziende sanitarie dell'Umbria, con lo scopo di migliorare gli standard di cura e di presa in carico dei soggetti affetti da malattie psichiatriche, per assicurare loro percorsi di assistenza e di cura anche nel momento del venir meno della rete familiare. Per quanto riguarda invece la mozione d'iniziativa del Consigliere Solinas, denominata Progetto per il Lavoro, per promuovere nuove opportunità di lavoro, sostenere i processi di crescita, innovazione e internazionalizzazione delle imprese Umbre, già presentata in Aula e rinviata in Commissione per approfondimenti, è stata fissata una serie di audizioni con i soggetti interessati dai sindacati a Confindustria, CNA, Camere di Commercio e associazioni di categoria. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive della Regione ed è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.